Buona giornata, qui da Civita di Bagnoregio vi porto a un pensiero importantissimo, uno di quelli fondamentali che senza non potete fare. Il vero cambiamento ha bisogno del desiderio di cambiare, Gabrielle Bernstein. Questo pensiero del giorno perché è così importante? Perché se volete cambiare, se volete effettuare un cambiamento, se volete che la vostra vita cambi in meglio, l'unico modo è che voi desideriate ardentemente di cambiare. Perché 9 su 10, parliamoci chiaro, il cambiamento non viene così perché, ah ora voglio cambiare, voglio fare questa cosa, voglio trovare il modo di fare questa cosa, ma rimanendo con come facevo prima, con le cose che facevo prima. No, non funziona così, mi dispiace, mi dispiace per voi, ma non funziona così. L'importante è avere il desiderio di cambiare, cominciare a fare cose nuove, cominciare a fare le stesse cose in modi nuovi. Quindi trovare questo quid che vi dà modo di portare avanti questo cambiamento e allora sì che comincerete a vedere dei veri risultati, dei risultati diversi che vi faranno dire Che bellezza! Oh, così si fa! Bene, allora mi raccomando, comincia oggi a fare dei cambiamenti, a cambiare il modo di fare le cose e vedrai che troverai un cambiamento nei risultati. Io ti mando un abbraccio grande, qui dalla bellissima Civita, qui sullo sfondo e ti auguro una buona giornata. Daniele Paci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata! Ciao!